Il voto è stato netto, perché comunque è uno scarto di oltre 250 voti rispetto alle altre tre liste che sono appaliate. Il nostro è un progetto civico, c'è un'anima di centrodestra, ma ci sono anche delle associazioni che hanno dato un contributo, se ne dire, determinante. Mi riferisco a Direzione Futuro e all'Associazione Consenso Civico. Ci sono delle persone indipendenti che fanno per la prima volta l'ingresso dentro al Consiglio Comunale. Poco tempo per festeggiare, perché conosco temi e problemi del mio paese e la nostra forza è stata quella degli argomenti. Sulla scorta di questi argomenti, quindi di una proposta non contro qualcuno, ma per qualcosa, inizieremo a lavorare già da domani mattina. È stata una bella campagna elettorale, una bella sfida, però sono veramente gratificato del risultato ottenuto. Una compagna elettorale all'insegna del confronto con il quorum, quindi con le persone, con un progetto da condividere con il territorio per portarli a votare. Però sono grato a tutti i cittadini di controguerra che hanno compreso il nostro progetto di continuità e di rinnovamento, hanno visto tutta la nostra fattività e ci hanno dato il consenso, un buon consenso che ci gratifica e ci dà forza per andare avanti.